Il Diceo 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 Lo prendi anche questa scarpa va? Non saranno niente Sono quelli che ha portato papà da Stoccolma Sì ma non mi interessa Sono da sfigato Fuori moda Va bene Ehi Come stai oggi? Mi sento un po' stanca Non ce la faccio più a camminare Beh l'abbiamo fatta di strada Siamo vecchietti Ma il tempo non passa in vano 1-0-3 previsto in partenza Le ore 16 e 25 Per Verona Porta Nuova Oggi non sarà effettuato Per Guasto a treno Per me? Per me? Per me? Per me? Per me? No. 35? 35? No? Stasera ti porto fuori Dove vuoi andare? Beh, dove vai tu? Ovvio no? Prende per il culo Scarpe non servono per parlare Servono per camminare Con queste scarpe Ho camminato 7 paesi Ho traversato il mare Hai qualcosa per me? ho delle scarpe ma per te sono grandi va bene, fai vedere va bene si si adesso posso continuare il mio viaggio per andare in suizia quando ti vuole a piedi questo si serve la paracante che tra le sai la paracante che d-vino a che fa bene non se Grazie a tutti Grazie a tutti